Il volere della segretaria Ellie Schlein starebbe pensando di candidare l'ex direttore dell'Avvenire, quindi l'ex direttore di Lucia Capuzzi, Marco Tarquinio, che è un pacifista convinto. Però questo sta creando forti dissapori all'interno del Partito Democratico. Ma fa bene la Schlein a candidare uno come Tarquinio? Per il PD è così difficile oggi candidare un pacifista? Per il PD è difficile candidare chiunque, oggi come oggi. Il caso Tarquinio è il simbolo dell'irrisolutezza di quel partito. Perché lo dico? Perché una figura come l'ex direttore di Avvenire, dal mio punto di vista, per un partito progressista e riformista come il PD dice di essere, può rappresentare solo un arricchimento dal punto di vista politico-culturale. Però perché non lo rappresenta e diventa un'insidia? In un momento come questo, no? Tanto più in un momento come questo. Ora, nello specifico di Marco, oltre al tema del pacifismo, si aggiunge anche un elemento di criticità che riguarda le sue posizioni sui temi etici cosiddetti, cioè il fine vita, i diritti della comunità LGBTQ+, eccetera, eccetera. Tutte posizioni che appaiono poco conciliabili con quella del PD. Ammesso che il PD abbia una posizione, qui torno al tema. Perché il PD è spaventato quando ha di fronte personalità che dal punto di vista culturale, ripeto, secondo me non possono che arricchire quel partito, ma che hanno posizioni differenti. Perché il PD non sa chi è. Il PD non sa chi è. È un partito che ha smarrito la sua identità. Faccio solo un esempio che a mio parere calza oggi con Tarquinio. Fatte tutte le debite proporzioni del caso. Il vecchio partito comunista, no? aveva al suo interno componenti che erano la sinistra indipendente, Paolo lo sa meglio di me, la sinistra indipendente che erano Rodotà, Cavazzuti, Argan, Natalia Ginzburg. Cioè personalità importante, magari avercele oggi, ma di ispirazione culturale totalmente differente. Eppure erano membri del partito comunista. Quindi il fatto che oggi il PD non riesca a rappresentare voci diverse. C'era anche la componente cattolica, i cattolici del distenso, Franco Rodano, era tutta una... non era una corrente perché il PC non accettava correnti, ma erano ispirazioni culturali differenti da quelle, oggi diremmo, mainstream del partito. Ma il partito se ne giovava. Perché? Perché sia pure supposizioni che oggi riteniamo superate o non condivisibili addirittura, però sapeva chi era, aveva un'identità e non temeva di contaminarsi. Oggi il PD non lo sa. Quindi è scalabile, contendibile e contaminabile da chiunque. Ecco perché ha paura. Condividi questo giudizio così, se è vero Paolo.